Natale è già alle porte, ma in molte città siciliane gli addobbi sono tutt'altro che natalizi. Cumuli di rifiuti sparsi per le vie di diversi comuni della regione regalano a cittadini e turisti spettacoli indecorosi e poco allegri. E' l'ennesima emergenza rifiuti, venutasi a creare in questi ultimi mesi dei provvedimenti che hanno portato alla chiusura delle discariche di Mazzara Sant'Andrea, chiusa dalla magistratura, di Siculiana chiusa per il raggiungimento del limite e dal fermo della discarica di Motta Sant'Anastasia, commissariata in via di chiusura per presunte irregolarità con la documentazione antimafia della società OICOS che la gestisce. Ad aggravare una situazione già abbastanza critica si è giunta la chiusura della discarica di contrata Timpazzo di Gela e il collasso della discarica di contrata Borranea di Trapani. A seguito della chiusura della discarica di Siculiana aveva cominciato a ricevere la spazzatura di 12 comuni del Trapanese, un provvedimento tampone del governo regionale rivelatosi inefficace, perché adesso anche la discarica Borranea è satura e non può più ricevere la spazzatura che arriva da altri territori. Il rischio di un'emergenza rifiuti grava anche su Palermo. La sesta vasca di Bellolampo in questi giorni sta infatti accogliendo i rifiuti di alcuni comuni della provincia, in particolar modo di Morriale e Bagheria, che su tutte rischiano di essere sommerse dalla spazzatura. Per cercare di risolvere la questione, Rosario Crucetta ha chiesto a sottosegretario Graziano Del Rio la nomina a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, con l'attribuzione di poteri speciali che permetterebbero al governo regionale di requisire le discariche, di imporre i prezzi di conferimento con decreto, di acquistare mezzi scavalcando gare d'appalto in virtù dell'emergenza e dell'urgenza. Ma il piano del governatore sembra non convincere il governo nazionale. Troppe lacune nel dossier consegnato al Del Rio che non prevederebbero azioni precise per risolvere l'annoso problema. Sul commissariamento predicano prudenze renziani, che chiedono garanzie prima dell'autorizzazione. Il tempo comunque stringe. Servono interventi urgenti e risolutivi prima che tutta la Sicilia diventi una discarica a cielo aperto. Sì, all'approvazione del bilancio regionale in giunta. Adesso si attende aprile per l'approvazione della finanziaria. Mancherebbero ancora infatti 3,6 miliardi di euro per i quali la Regione potrebbe anche chiedere un maxi mutuo. Nel frattempo sono stati trovati fondi per gli stipendi degli enti regionali, dei consorsi di bonifica, delle comunità alloggio, ESA e dei dipendenti teatrali per i prossimi quattro mesi. Per la giunta di Crocetta via libera anche l'approvazione dell'esercizio provvisorio, il cui valore ammonta più di 53 milioni di euro. Di questi, quasi 13 milioni saranno erogati per la copertura degli stipendi dei lavoratori dei consorsi di bonifica. Circa 5 milioni invece sono stati stanziati per gli enti che gestiscono parchi e riserve naturali. Mentre 615 mila euro saranno destinati all'Istituto Sperimentale Zootecnico. 4 milioni per i dipendenti dell'ESA. Si è parlato anche di tagli. Potrebbe esservi infatti una riduzione del personale attraverso il prepensionamento. Revisione invece nell'organico e nel sistema di incentivi. Inoltre potrebbe essere valutata la possibilità di trasferire la gestione delle pensioni all'Inps. Per i forestali non vi sarebbe più rimborso delle trasferte, mentre per gli appalti è prevista la realizzazione di una centrale unica di acquisto per tutti i servizi della Regione. Novità anche sul versante dell'SPA. Previsto lo scioglimento per la loro scarsa capacità di autosostentamento. Via libera anche l'approvazione della proposta dell'assessore al lavoro Bruno Caruso sullo stanziamento per mettere in atto processi di riqualificazione tecnologica nei confronti dei lavoratori del call center Accenture. Spazio anche all'arte, con lo stanziamento di più di 2 milioni per il Teatro Massimo di Palermo, 923 mila euro al Teatro Biondo del Capologo Siciliano e 200 mila all'Istituto Nazionale del Dramma Antico di Siracusa. Fundi anche al Massimo Bellini di Catania, al Vittorio Emanuele di Messina e alla Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. Saffir Nata con prerogative di alta qualità, oggi Saffir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza in manualità che da sempre la contraddistingue. Saffir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni, affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Anche quest'anno abbiamo fatto delle ceramiche particolari per le feste di Natale. Vi invitiamo a venireci a trovare qui in fabbrica, a vedere e fare assieme il vostro regalo di Natale. O regalarlo o regalarselo. È sempre un motivo di gioia una ceramica in open room. Arriva il via libera del Ministero del Lavoro a Progetto METEC, che ridà vita allo stabilimento Fiat di Termini Merese. Il piano di riqualificazione prevede due anni di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione, con l'opzione di altri due anni per i lavoratori di Fiat e Magneti Marelli, che saranno trasferiti alla società Blutec, costituita da Gruppo METEC, nell'ambito dell'operazione di acquisizione del ramo di azienda dello stabilimento di Termini Merese. Dopo tre anni si riapre dunque una nuova stagione per i lavoratori, che rischiavano in questi giorni il licenziamento collettivo. Subentrato alla grife SPA, ritenuta inaffidabile dal punto di vista finanziario, il gruppo METEC, dopo otto ore di trattative, ha raggiunto l'intesa con le organizzazioni sindacali, grazie anche alle garanzie del Ministero per lo Sviluppo, che ha avvidimato il piano finanziario della Holding da 40 anni presente sul mercato della componentistica per auto. Previsto un investimento pari a circa 280 milioni di euro, 90 milioni per la componentistica e 190 milioni di euro per il progetto autoibride ed elettriche. L'accordo sarà sottoposto all'Assemblea dei Lavoratori a Termini Merese. Poi si tornerà al Ministero per la firma sull'intesa, al massimo entro mercoledì mattina. La Blutec, controllata al 100% dal gruppo METEC, rileverà il ramo d'azienda partendo da subito con un capitale sociale di 25 milioni di euro e con il trasferimento dal 1 gennaio del 2015 dei dipendenti Fiat e Magneti Marelli. Saranno mantenuti gli attuali livelli retributivi. Per circa 130 operai, con i requisiti per l'accompagnamento alla pensione, è previsto un incentivo da parte di Fiat, che liquiderà loro anche il TFR transitante da Blutec. Licenziati senza aver mai lavorato, è finito così il rapporto dei 32 esperti selezionati dalla società ministeriale Italia Lavoro per supportare il piano giovani della regione Sicilia. E ora minacciano ricorsi e richieste di risarcimento danni contro Palazzo d'Orlean e la stessa società che li ha scelti tramite concorso. La vicenda riguarda il piano da 100 milioni di euro che avrebbe dovuto promuovere l'occupazione giovanile nell'isola. Il progetto era stato affidato dalla regione alla società Italia Lavoro, che a sua volta aveva avviato una selezione per 32 supervisori che avrebbero dovuto supportare uno dei bandi del progetto, quello per i tirocini retribuiti in azienda. Il gruppo ha superato un concorso che ha tenuto conto di curriculum e titoli, test scritto e colloquio. Nel frattempo però è arrivato il megaflop del bando per selezionare online i tirocinanti e l'accordo con la società è stato revocato dall'ex dirigente alla formazione Anna Rosa Corsello. I rapporti tra Italia Lavoro e la regione non sono mai stati ricuciti e nei giorni scorsi la società ha comunicato ai contrattisti di aver sciolto il rapporto di lavoro. Per i 32 esperti in materia del lavoro, il sogno di un contratto da circa 1.600 euro lordi al mese per 16 mesi sembra dunque sfumato. In realtà però il gruppo non ha mai lavorato né percepito alcun compenso. E Marcello Capetta, che ora si fa portavoce della protesta, spiega che alcuni hanno rinunciato ad altri lavori perché all'Inps risultavano le dipendenze di Italia Lavoro. Il gruppo incontrerà la prossima settimana l'assessore alla formazione, Mariella Lobello, per trovare una soluzione ed evitare lo scontro giudiziario. Uno scippo record di pochi minuti ma che ha fruttato ai ladri un bottino di ben 64.000 euro. La vittima è responsabile di un supermercato che si stava arrecando in banca per versare i soldi dell'incasso. Il fatto è avvenuto a Palermo, in piazza Sant'Antonio, a due passi dalla stazione centrale. Un colpo veloce è scattato intorno alle 15. A compierlo, secondo le dichiarazioni della vittima, sarebbero stati due extracomunitari di origine nordafricana che hanno affrontato l'uomo di 53 anni portandogli via la borsa piena di soldi. Sul caso lavorano gli investigatori della polizia che, allertati dalla stessa vittima, ancora sotto shock per aver perso tutto l'incasso, ha raggiunto gli uffici della polizia ferroviaria per presentare la denuncia. L'uomo è stato ascoltato a lungo, gli agenti gli hanno chiesto le descrizioni dei banditi per avviare le indagini e andare alla ricerca degli autori del colpo. Gli investigatori sono andati anche alla ricerca di eventuali telecamere che abbiano potuto riprendere le fasi della rapina. Adesso si attendono gli sviluppi delle indagini. E nel periodo dello shopping natalizio non conosce tregua l'allarme rapine. Gli ultimi colpi sono stati messi a segno nella serata di domenica in diverse zone della città. Poco dopo le 19.30, tre malviventi con volti coperti e armati di pistola hanno fatto irruzione nel supermercato Eurospin di via Partanna Mondello, portando via 1000 euro a bordo di un'opelastra rubata. E lunedì sera la stessa banda sarebbe entrata di nuovo in azione nella zona di San Lorenzo, prendendo di mira un altro supermercato. E sempre domenica sera altri due banditi hanno fatto irruzione nel negozio di detersivi di Ferdico, di via Simone Cuccia. I rapinatori armati di un flex hanno immobilizzato e rinchiuso in un bagno gli impiegati dell'esercizio commerciale. Poi si sono diretti nel luogo in cui c'era la cassaforte e l'hanno aperta, portando via il contenuto. Il bottino è da quantificare. Si trova ancora rinchiuso nella cella di un braccio ai piani bassi del carcere di massima sicurezza di Pogdorza, capitale di Montenegro, l'ex deputato originario di Capodorlando Massimo Romagnoli, arrestato giovedì scorso per traffico d'armi nel paese dei Balcani a seguito di un mandato internazionale firmato dalla procura di New York. Pesantissime le accuse nei suoi confronti, terrorismo e cospirazione finalizzata all'uccisione di cittadini americani. Romagnoli nega invece le accuse ed è convinto di poter dimostrare le straneità ai fatti contestati. Con i funzionari dell'ambasciata italiana in Montenegro, incontrati per la prima volta l'unio di scorso, Romagnoli ha ribadito infatti la propria innocenza. L'ex deputato di Capodorlando è apparso in buone condizioni, chiariscono all'ambasciata. Romagnoli ha chiesto assistenza alla rappresentanza italiana, la possibilità di colloqui settimanali e domani, alla vigilia di Natale, dovrebbe incontrare l'ambasciatore Vincenzo del Monaco. Gli Stati Uniti, per il tramite del procuratore del distretto di New York, hanno intanto firmato un mandato internazionale di cattura ai fini estradittivi e sembra che il giudice di Pocdorica non si opporrà alla richiesta di estradizione. Dopo le vacanze natalizie, Romagnoli quindi, presumibilmente, sarà trasferito negli USA, dove lo attende un processo per accuse che comportano pene pesantissime, anche l'ergastolo. L'indagine, durata almeno cinque mesi, è stata curata dalla DEA, il potente servizio segreto USA, che si occupa di lotta alla droga e contrasto del contrabbando, ed è stata caratterizzata da intercettazioni telefoniche e incontri ripresi con agenti segreti che si sono finti rappresentanti della FARC, i narcoterroristi delle forze armate rivoluzionarie colombiane. Romagnoli e due rumeni, arrestati assieme all'ex deputato orlandino la scorsa settimana, avrebbero manifestato la propria capacità a procurare armi e lanciarazzi attraverso una spedizione che doveva transitare per l'Africa. Autostrade sicure entro quattro mesi. È questo l'ultimatum lanciato dall'ANAS al Consorcio adostrade siciliane. L'ANAS ha infatti comunicato al CAS di aver assegnato un termine di 120 giorni, trascorsi i quali, se non dovesse provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza, provvederà alla revoca della concessione. Si tratta di effettuare lavori di manutenzione delle piste, alla segnaletica sia orizzontale che verticale, agli impianti elettrici, dalle opere in verde agli impianti telematici di esazione. Non è la prima volta che ANAS e CAS si scontrano. Già nel 2010, l'ANAS, di concerto con i Ministeri dell'Economia e delle Infrastrutture, aveva tentato la revoca della concessione delle autostrade siciliane. Intanto i 24 tecnici e esattori licenziati si sono rivolti al Tribunale del Lavoro per essere reintregrati. Per quanto riguarda i 120 giorni imposti dall'ANAS, il vicepresidente del Consorzio Antonino Gazzarra si dice ottimista, dichiarando «è un termine decisamente alla nostra portata». Un giorno per non pensare al dramma della povertà vissuta quotidianamente. Nel quartiere albergaria di Palermo la solidarietà fa da padrona. Alcuni commercianti, residenti e associazioni hanno dato luogo a diverse iniziative solidali nei confronti dei meno fortunati. Sono stati offerti pasti caldi e imbandite tavole con caramelle per regalare un sorriso anche ai bambini. Dalle 13.30 alle 16 lo storico quartiere palermitano si è tinto di festa. Giochi, karaoke, allegrie e sorrisi per regalare agli indigenti un anticipato e sereno Natale. L'iniziativa è stata organizzata dal consigliere della prima circoscrizione, Salvatore Imperiare, il quale si è definito felice di come si è svolto l'evento in un momento come questo, fatto di amarezza, rabbia ed esolazione. Un nobile gesto che purtroppo mette in luce una triste realtà, la povertà della città. Sono davvero tanti coloro che bussano alle chiese, dice padre Sergio Mattaliano, direttore della Caritas di Palermo. Sembra che negli ultimi tempi sia aumentato esponenzialmente il numero di famiglie italiane che chiedono aiuto e sostegno alla Caritas. Non parliamo quindi di coloro che scelgono la povertà. Oggi ci troviamo di fronte persone che, con la crisi o per altri motivi, si sono ritrovate all'improvviso per strada. C'è chi ha perso il lavoro, la casa e la speranza di una ribalta in un momento del panorama lavorativo che sembra essere uno dei più bui. Comunica. Contattaci per la tua sicurezza. Chicovo, un amore nuovo. Non abbiamo vinto, ma sono contento. Non manca un'accenna a qualche presunto errore arbitrale, come quello che ha permesso all'Atalanta di presentarsi dal dischietto per la rete del momentaneo 1-2. Ho saputo del rigore di Dennis totalmente inventato, un provvedimento che ci ha penalizzato due volte, sia per il fallo inesistente che per l'espulsione del nostro mister Iachini, che è fondamentale anche durante la partita. Quando c'è la differenza si sente come. In Italia mi sembra che gli allenatori vengono cacciati troppo facilmente. Forse i nostri arbitri sono eccessivamente permalosi, aggiunge Zamparini, perché in altri paesi come Francia e Inghilterra succedono cose ben peggiori, ma i tecnici rimangono regolarmente in panchina. In chiusura il presidente spende parole al miele per Franco Vasquez, tornato a far centro dopo una lunga astinenza. Due reti importanti, quelle realizzate all'Azzurri d'Italia, che hanno permesso al Palermo di ottenere l'ottavo risultato utile consecutivo. Mi fa piacere, la doppietta di Vasquez, almeno ha finito di prendere pali. Il Tour de Force di fine anno non inizia certamente nel migliore dei modi per il Catania, per il quale la mancata vittoria a Casalinga contro il pericolante Brescia sembra essere di gran lunga il male minore. Tutto ciò che ha fatto da contorno al match del Massimino e anche alla precedente uscita dei Rosazzurri, il 4-2 di Livorno, ha infatti attirato totalmente l'attenzione di addetti ai lavori, giornalisti, tifosi e probabilmente anche di parte della squadra, distratta dagli eventi che hanno riguardato la società e soprattutto dagli ampi spazi vuoti sugli spalti dell'ex Cibali. La conseguenza diretta è stata una prestazione in colore, con qualche spunto offensivo dettato più dalla rabbia agonistica che dal gioco, rivelatosi inesistente per quasi tutti i 90 minuti. L'addio di Sannino, inaspettato più nei tempi che nella sostanza, ha sicuramente spiazzato tutto l'ambiente calcistico catanese dai tifosi ai giocatori, indipendentemente dalle motivazioni che hanno indotto il tecnico di Mugnano a prendere una decisione delicata proprio alla vigilia di una partita cruciale, più per una questione psicologica che per la necessità di tornare a celebrare una vittoria che manca ormai da quattro partite. E i dubbi sulla permanenza in panchina di Maurizio Pellegrino, che a questo punto dovrebbe guidare il Catania, almeno per le ultime due gare del 2014 contro lo Cittadale Carpi, non fanno chiedere a rendere ancora più problematica la situazione in casa etnea, dove la posizione pericolante in classifica è vissuta come un vero e proprio dramma sportivo. Con la legge di stabilità più soldi in tasca agli italiani, così Renzi dopo il sì definitivo alla manovra ieri alla Camera. Il Premier in un'intervista avverte l'Europa sul decreto per l'Ilva, atteso domani in Consiglio dei Ministri. Non potrà impedirci di salvare i bambini di Taranto. Un sabotaggio, non rievochiamo il terrorismo, così il Premier Renzi sull'incendio vicino alla stazione Santa Viola di Bologna ha danneggiati i cavi di controllo del traffico ferroviario tra Bologna e Milano. Rallentamenti di circa un'ora per i treni e anche quelli ad alta velocità. Di atto terroristico contro la TAV parla anche il Ministro dei Trasporti Lupi. La vicenda dei Marò è un incredibile pasticcio, ha detto anche il Premier questa mattina in un'intervista, ma adesso è il momento di risolvere i problemi, ha aggiunto il Premier. Dall'India scarsa volontà politica di dare una soluzione equa a una vicenda che si trascina da tempo in modo insopportabile, ha detto ieri il presidente napolitano. Sarà un Natale di negoziati sulla crisi ucraina a Minsk, in Bielorussia. Da domani al 26 dicembre si terrà una nuova sessione di colloqui tra Kiev, Mosca e Osce e dovrebbe intervenire anche una delegazione dei ribelli filorussi dell'Est. I dettagli sono stati definiti in una serie di colloqui tra i vertici delle cancellerie europee. È stato il gesto di uno squilibrato, non è terrorismo, lo precisano gli inquirenti francesi dopo che un furgone è piombato ieri sulla folla a Nantes. Undici i feriti, grave il conducente che ha poi tentato il suicidio accoltellandosi. Domenica sera un caso analogo a Digione dove un uomo si è gettato sui pedoni al grido Allah Bar. Con l'approssimarsi delle feste si intensificano i sequestri di fuochi d'artificio illegali. A Tarquinia nel Viterbese ne sono stati sequestrati 18 chili, bloccati in un'attività commerciale anche 13.000 prodotti tra giocattoli e articoli natalizi, non in regola con le norme sulla sicurezza. Una persona è stata segnalata alle autorità. A Tarquinia nel Viterbese ne sono stati sequestrati 18 chili, bloccati in un'attività commerciale, bloccati in un'attività commerciale. Grazie. 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 Grazie.